Reduce dall'esorbitante successo ottenuto con il suo Britney P's on me show, la cantante statunitense è apparsa in un video pubblicato via social media, che la ritrae mentre alla sua prima lezione di danza con Lettile Willie Gomez, la pop princesa è riuscita a ricevere i complimenti da parte della Latin pop star Shakira.Britney balla la salsa, sulle note di una hit di Shakira dopo aver registrato il tutto esaurito con molti concerti del suo tour estivo, il Britney P's on me show, che l'ha vista esibirsi, video virgola sui principali palcoscenici d'Europa ed America del Nord, la cantante statunitense di Baby on more time, Britney Spears, è tornata attiva online pubblicando sui suoi profili social un nuovo video, Contenente le esclusive immagini di una lezione di salsa che l'artista ha recentemente tenuto insieme al suo ballerino ed amico Willie Gomez, è tile ingaggiato nel corpo di ballo del Britney P's on me, lo show che la Santa di Las Vegas tiene attivo dal lontano 2013.Always so much fun dancing with my good friend Chiocciola Willie Gomez, es a total gentleman and made me feel like a sacha lady doing the salsa in il for the first time today. Io do him to the max, scarpa con il tacco scarpa con il tacco scarpa con il tacco pic.twitter.com barra nk3kupxuo e apostrofo mi diverto sempre tanto a ballare con il mio amico Willie Gomez. Lui è un vero gentleman e mi ha fatto sentire come una ragazza che balla la salsa sui tacchi per la prima volta, oggi. Lo adoro al massimo, ha esclamato la pop princess per iscritto nella descrizione di uno degli ultimi video condivisi sui profili social della cantante. Il suddetto video, che immortala Britney Spears mentre balla sulle note di Chantahat cantata da Shakira featuring Maluma, è riuscito in poche ore a spopolare nella rete. Molte sono state le critiche mosse a carico della Spears online, come Britney non è in grado di ballare sui tacchi, la salsa non è per lei, Britney può fare solo il pop, ma, inaspettatamente, è spuntato un raggio di sole per i fan della pop star a commentare positivamente l'esecuzione di ballo sulle note di Chantahat, Registrata da Britney Spears, è stata la cantante Shakira, la quale ha condiviso il video pubblicato dalla Spears, commentando l'olo con le seguenti parole Sì, vai Britney Spears! È anche una fantastica ballerina di salsa! Da diverse ore, si vocifera online che Britney e Shakira potrebbero molto presto ufficializzare la loro tanto chiacchierata prima collaborazione musicale, Shakira Chiocciola Shakira 3 ottobre 2018 Britney e Sexy nello spot di My Prerogative è la cantante statunitense di Baby on More Time, che quest'anno celebra il ventennale dal suo debutto nell'industria musicale, ha lanciato online un teaser, ovvero un'anteprima dello spot pubblicitario della sua prima fragranza unisex, My Prerogative, una fragranza per tutti, così come è stata presentata in media, video. Da Britney Spears, in una recente intervista punto i apostrofo emme so excited for you all to see the different personas o gancellettomi prerogative. And the head to put together my own personal edit of the video footage, era a little taste.more coming soon. pic.twitter.com barra if 4 a 5 i 3 mk, Britney Spears Chiocciola Britney Spears 3 ottobre 2018 nel nuovo video condiviso online da Britney Spears, la pop star sfoggia la sua ritrovata forma fisica perfetta, in un sexy total black look di latex.